Giorgia, Madrix, Chiamati! Sono anche la verginella coach, Fabio, Romac, Domari! Giorgia, Madrix, Chiamati! Giorgia, Madrix, Chiamati! Brian ha salato dei tibori, il primo punto per Gianni! Giorgia, Madrix, Chiamati! Giorgia, Madrix, Giorgia, Madrix, Giorgia! Giorgia, Madrix, Giorgia, Madrix! Viva! Chiamati, Madrix! 24-20! Mattabilizia, Madrix, Giorgia! via 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 è sicuro in qui vogliamo ancora servizio pescara prima prima subito a segno il capitano porto via lunga subito a zero 1-1 2-0 un gol di ricerca è due a zero sempre ma il capitano Corina Grugiani Grugiani sedia Costantini capitano la lega internaziana 9-23 Sì, sì! E' sicuramente 25 ore fino alla seconda setta. Di Banco, 23-24. E' sicuramente 30 ore fino alla fine, 25-23. In finale del terzo set, dunque la TUM per Giavone, fatta per 3-0 da Nuziana Pescara. I parziali 25.